porta anche la mezz'ora di questa seconda ora insieme in best in town e quindi dalla millennio it novità discografica della radio che resta in testa a rotazione per tutta la settimana la ritrovati in radio tv un'altra grande novità che ha a che fare con la tv e il video 693 del digitale terrestre applicazione ufficiale radio millennium sito ufficiale radio millennium punto it perché da oggi oltre al nostro appuntamento di manager in office aggiungiamo il collegamento video ad aprire a inaugurare questo spazio rinnovato oggi dovremmo essere dovremmo essere collegati con lo showroom di tirloni auto reno dacia opel a milano e per noi con noi anzi dovrebbe esserci eh dovrebbe esserci Dario Tirloni ciao Dario ben arrivato su millennium eh buona serata Dario ci sei? E sempre. Ah eccoti qua adesso ti abbiamo trovato eccoci qua. Ci siamo. Bello 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 sempre. È bello vederti anche dal vivo ed è bello entrare a casa a tirloni in un certo senso voi entrate a casa dei nostri ascoltatori. Difatti io ti ringrazio appunto per la tua calorosa ospitalità ci riservi sempre e che anche noi intendiamo rivolgere i nostri clienti quotidianamente. Farei un buon anno a te che non ci siamo più sentiti e un buon anno a tutti gli ascoltatori di Radio Millennium qui dal nostro showroom di Vieri Pamonti a Milano. Certo certo dove sei seduto esattamente perché mi hanno detto che c'è una poltroncina speciale lì un angolino. Sì abbiamo un piccolo salottino all'entrata del nostro salone per cui se ci venite a trovare vi faccio accomodare volentieri e vi offro qualche cosina. Sicuramente lo faremo con molto piacere. Renò Dacia Opel da 51 anni una famiglia incontri i valori la storia bene o male la passione che ci mettete tutti i giorni la raccontiamo sempre comunque in best in town tutti i giorni però naturalmente quello che a me interessa è capire come è iniziato questo nuovo anno Dario il 2021. Allora il 2021 è iniziato è iniziato e come per il 2020 ci sentiamo attori di questo nuovo anno e vogliamo esserlo fino in fondo. Metteremo in campo tutte le nostre risorse ed energie per servire almeno i nostri clienti per farli sentire i protagonisti anche loro nel nostro quotidiano confronto. I nostri servizi sono gli stessi di sempre vendita post vendita centro revisione magazzino gommista certo certo il tutto arricchito il tutto arricchito dalle piattaforme social online per cui siamo su Instagram su Facebook abbiamo il nuovo portale Tirloni punto it abbiamo YouTube insomma ci stiamo impegnando ad essere attori anche su web. Bene anche in tutto il supporto digital siete storici ma allo stesso tempo innovativi sul pezzo questo ci piace. Sì 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 novità ci proviamo novità perché so che ci sono infatti ci sono anche delle novità poi per questo nuovo anno. Allora novità casa Renault tantissime non ultimo novità nazionale sono partiti gli ecobonus per cui diciamo che sollecito tutti i nostri clienti che vogliono appunto pensare di acquistare una vettura a breve di avvicinarsi velocemente presso il nostro showroom dove possiamo stilarvi un nostro preventivo con tutti gli ecobonus per la rottamazione non solo per i veicoli eh privati ma anche per le aziende per i furgoni noi eh abbiamo grazie appunto a questi vantaggi e arriviamo a oltre diecimila euro di vantaggio in caso di rottamazione. certo. Poi abbiamo la grande fortuna di avere la regina delle macchine elettriche nel nostro nel nostro parco auto Renault che è la Renault Zoe stata la macchina più venduta della sua categoria in Europa. eh abbiamo tutta la gamma elettrificata per cui abbiamo Clio Full Hybrid eh Captur Plugin e non ultima e non ultima la nostra Twingo elettrica eh non so se lo sai ma eh da fine anno scorso eh commercializzata anche Twingo elettrica che è la nostra prima city car completamente elettrica con soli poco più di mille cento chili. una macchina molto agile per la città eh batteria di proprietà otto anni di garanzia insomma con gli eco incentivi con poco più di dodicimila euro la si può acquistare con un comoderate da cento novanta euro al mese poi siamo pronti a appunto a entrare nel dettaglio e a raccontarvi tutto anche per la ricarica che tanta tanta gente ad oggi è un po' preoccupata su come ricaricare e dove ricaricare queste vetture elettriche. che per cui noi siamo preparati anche e sull'argomento e possiamo rasserenarvi tutti. Tra l'altro noi faremo dare una serie di approfondimenti e un vero proprio viaggio come già facciamo tutte le sere in collegamento proprio in diretta dal vostro showroom di Milano via Ripamonti duecentoventi insieme anche rivedremo professionisti parte integrante del vostro staff del vostro team del dietro le quinte e andremo servizio dopo servizio tema dopo tema ad approfondire nel dettaglio insomma tutti i punti. oggi era giusto così per fare il punto della situazione fare un augurio condiviso a tutti inaugurare insieme questo nuovo spazio virtuale in collegamento live anche in video proprio qui su millennium insieme visto che voi siete partner ufficiale poi di best in town in un certo senso avete anche aperto le danze con manager in office. eh che dire. Questo ti ringrazio. Grazie di cuore a voi. Grazie di cuore a voi. In Granato la settima marcia Tirloni avanti tutta Dario. Dai eh diciamo che eh siamo nella direzione giusta dobbiamo avere fiducia del momento e anche e soprattutto del nostro prodotto che ripeto per quest'anno siamo veramente pronti ad affrontare anche tutto il mondo elettrificato. certo. Va bene. Grazie buona serata e ingraniamo nuove marce con Tirloni alto. Grazie ancora a te Marco e buon saluto a tutti e agli aspettatori di Radio Millennium. Venite a trovarci che vi riserveremo sicuramente un trattamento speciale. Radio Millennium resta in testa.